Hai bisogno di crediti? Vai su vipcoinsfifa.com e con il codice coupon MALATI15 avrai il 5% di crediti in più Beh ragazzi qua è scio e bentornati oggi sul canale di noi malati di foot E' anche il primo video che faccio su questo canale quindi ci terrei a darvi il benvenuto siccome adesso sentirete la mia voce molto più spesso Ma adesso banda le ciance e iniziamo subito con l'orevito del giorno che questa volta è di James McCarthy If Il giocatore classe 90 del Everton irlandese ha ricevuto questa carta If grazie alla vittoria contro il Manchester United di 3 a 0 per l'appunto dell'Everton in cui McCarthy ha segnato anche il primo gol Ma adesso andiamo a analizzare James McCarthy in FIFA La carta si presenta con un 81 di overhaul come mediano, a 75 di velocità, 70 di tiro, 80 di passaggio, 79 di dribbling, 81 di difesa, 84 di fisico E' alto 1 metro e 80 come worklist d'attacco a medio come worklist di difesa a alto, 4 stelle piede debole, 3 stelle skill Parlando invece di valori in game spiccano un 87 di passaggi lunghi, un 86 di passaggi corti, 84 di scivolate, 84 di contrasti, 95 di stamina, 80 di fisico, 82 di aggressione, 81 di intercettazioni Ma adesso partiamo con i pro e con i contro Partendo dai pro, i primi due pro che do a questo giocatore sono le scivolate e i contrasti Tutte e due si traducono in game con 84 Ma secondo me sembrano anche qualcosa di più ragazzi Davvero è in grado di recuperare falloni come non pochi Anche per il fisico molto probabilmente che non metto come pro siccome non è altissimo sulla carta Solo 80 unito a un 73 di equilibrio Però ragazzi nel gioco si sente molto, infatti anche con il fisico riesce a recuperare molti molti palloni Il secondo pro che do a questo giocatore è l'aggressività Ragazzi quella 82 di aggressività in game sembra anche molto di più, sembra quasi un 86 ragazzi Ogni volta che perde la palla si butta subito come un dannato per cercare di recuperarla e molte volte ci riesce anche Il terzo pro che do a questo giocatore è la stamina Ovviamente come fare a non dare pro un ragazzo che ha 95 di stamina Praticamente è un toro ragazzi non si stanca mai dall'inizio alla fine della partita Ha la stessa frequenza di interventi sia appena inizia la partita dopo di un minuto sia al novantesimo Ragazzi davvero non si stanca mai L'ultimo pro che do a questo giocatore sono i passaggi Ovviamente 87 di passaggi lunghi e 86 di passaggi corti capite bene che sono dei valori molto molto alti Infatti riesce a servire praticamente qualsiasi giocatore si trova in campo Forse quel valore sulla carta è così basso solo 80 perché è penalizzato un po' da quel 78 di visione Che a dire la verità in game non si sente molto Ovviamente non ha una visione come Chavegnesta però più che 78 io direi che ha una visione più di 82 Quindi ragazzi davvero mi sono trovato benissimo sia con i passaggi corti sia con i passaggi lunghi È stato in grado di cambiare campo di fare dei lanci in profondità oppure anche dei semplici 1-2 Quindi ragazzi per me anche i passaggi sono un pro Adesso invece parliamo delle noti dolenti i contro ragazzi Come contro fondamentalmente non ce ne sono molti anche perché lui essendo un mediano Quello che deve fare appunto è difendere e far ripartire la manovra e quindi lo fa benissimo Comunque se vogliamo provare a trovare il pelo nel luogo ci sono dei contro Il primo di questi contro è il long shot o più in generale anche il tiro Perché siccome sia il long shot che il tiro a giro sono dei contro Ha un tiro a giro di 67 e un long shot di 76 unito a una potenza tiro di 70 Capite bene ragazzi che non è proprio il suo punto forte tirare L'ultimo contro che vado a dare a questo giocatore che secondo me è il vero contro Sono i colpi di testa ragazzi voi sapete che quest'anno i colpi di testa su FIFA Non sono più come gli altri anni ma questo giocatore è particolarmente scarso nei colpi di testa Lui ha altro solo 1,80 m ha 69 di salto e 65 di precisione di testa Praticamente non prenderà mai la palla perché salta poco ed è basso E quando la prende sbaglia anche perché ha una precisione molto bassa nei colpi di testa Quindi ragazzi niente adesso state vedendo la schermata riassuntiva di questo giocatore Che è stato davvero davvero ottimo per me mi sono molto divertito usarlo Anche il prezzo è abbastanza basso Milita dai 15.000 ai 30.000 crediti Quindi ragazzi se vi serve un mediano fatta a mediano della Premier League Oppure per fare qualche ibrida oppure per una nazionalità irlandese Ragazzi prendetevelo perché ne rimarrete stupiti Come voto gli do alla fine un bel 7,5 perché per me se lo merita tutto Quello che doveva fare l'ha fatto Quindi niente ragazzi se il video vi è piaciuto come al solito vi ricordo di lasciare un mi piace Commentate dicendomi se l'avete provato Cosa ne pensate voi di questo giocatore Siccome sapete che le review sono sempre molto soggettive Iscrivetevi sia al mio canale che trovate in descrizione Sia al canale Noi Molazzi di Foot Noi ci vediamo in un prossimo video Bella Ciao